Faresti una pubblicità ad un prodotto che non ti piace o ad una truffa per mezzo milione di euro? Raga, ora, spogliamoci dall'ipocrisia e dal buon costume e dal perbenismo Ma certo che lo farei ragazzi Se mi chiedessero appunto di sponsorizzare una roba illegale o veramente una roba che manda in rovina le persone Cioè io te lo faccio pure per mezzo milione Trovatemi qualcuno che, a parte Cristiano Ronaldo, che vi direbbe di no Qual è la persona che più odi? Ma io non odio nessuno, oddio, sì no Tizio incompetente, mentre io sono il migliore Mi sta antipatico, ecco, mi sta un po' antipatico Come fa ad avere quel numero di iscritti e quelle persone che lo guardano? Però probabilmente sono anche influenzato in questo giudizio dal fatto che un po' quello youtuber mi sta sul cazzo Succederebbe una catastrofe, anche perché su YouTube dovete sapere che Sono tutti pronti a prendere, a travisare le parole di uno youtuber per farci un clickbait È vero? Eh, sto parlando proprio con te